Una nuova serie di attentati torna a mettere in luce la fragilità degli equilibri in Cecenia. 3. I kamikaze che in base alle ricostruzioni delle autorità si sarebbero fatti esplodere martedì non lontano dal Parlamento di Grozny. Bilanci ancora confusi parlano di una decina di vittime in maggioranza agenti. Il primo dei due attentatori sarebbe entrato in azione durante un controllo di polizia, gli altri due poco dopo quando sul posto erano intervenuti i soccorsi. Modalità e coincidenza con la festività del Lei del Fitr sembrano smentire le affermazioni delle autorità cecene, secondo cui l'insorgenza islamica nella regione sarebbe ormai quasi debellata. Il triplice attentato è già tra i più sanguinosi verificatesi a Grozny negli ultimi anni. Le condizioni di 6 della ventina di feriti fanno tuttavia temere che il bilancio sia ulteriormente destinato ad aggravarsi.